Conto alla rovescia per il referendum sulle trivellazioni. Ai cittadini sulla scheda verrà chiesto volete che sia abrogata la norma approvata nella legge di stabilità che consente alle società petrolifere già in attività entro le 12 miglia marine, ovvero poco più di 22 km, di estrarre gas e petrolio fino all'esaurmento del giacimento. In altre parole verrà chiesto se, quando scadranno le concessioni, si vuole che vengano fermati i giacimenti in attività nelle acque territoriali italiane, anche se ci sono ancora idrocarburi. A promuovere il referendum sono state nove regioni, tra cui le Marche e diverse associazioni ambientaliste che criticano la durata vita delle concessioni e diranno sì all'abrogazione. Molto attivo il ruolo del comitato NoTRIV. Anzitutto non esiste in Europa una concessione senza fine. Anche i nostri bagnini dovranno avere la concessione rimessa in discussione, quindi è sbagliatissimo non dare un termine alle concessioni. Non avendo dato termine, questi grandi multinazionali del petrolio potranno lasciare lì le cose come stanno, non ripristinare, continuare a trivellare nell'ambito della propria concessione, non pagare royalties perché ne tireranno fuori il minimo necessario per non pagarle. Quindi l'Italia ha solo svantaggi, rischi al mare, rischi per la pesca, rischi per il turismo e vantaggi solo per i grandi multinazionali del petrolio con un minimo, ma veramente minimo contributo all'energia italiana. Quindi solo rischi e nessun vantaggio. Poi c'è la questione energetica. Se noi continuiamo a trivellare, a cercare petrolio e gas invece che investire nelle rinnovabili, noi saremo sempre indietro e non riusciremo mai a raggiungere gli obiettivi che ci si è dati in Europa e a Parigi nella COP21, che sono invece i veri obiettivi per ridurre i gas serra ed uscire dall'era dei combustibili fossili. E questo speriamo che possa svegliare il Governo e il Parlamento finalmente a muoversi nella direzione del risparmio energetico, dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili. Al contrario, chi dirà no all'abrogazione sostiene che sono a rischio posti di lavoro e sottolinea che già la legge di stabilità vieta nuove trivellazioni nelle vicinanze delle coste. Intanto il referendum è un valetto, secondo me, e bisogna iniziare a dire quelle che sono veramente le falsità che vengono dette in questi giorni. Il referendum non è no-triv perché non ci sono trivelle. Abbiamo nelle Marche una concessione e c'è solo una stazione di pompaggio del gas metano in questo momento. Quindi non ci sono nuove trivelle, questa è la prima falsità. Non è un referendum fatto dai cittadini è un'altra falsità perché è stato promosso da nove regioni italiane e quindi dai consiglieri regionali di nove regioni. Quindi seconda falsità. Terza questione, nella zona di Fano, ma in tutto il territorio, ci sono migliaia di persone che lavorano in questo settore, che è un settore dal punto di vista tecnologico molto avanzato. Ci sono tantissime aziende, ne potrei citare una che è molto conosciuta, Saipem, piuttosto che tante altre che lavorano in questo settore. Andando a abrogare questa norma si licenziano di fatto almeno 2.600 persone solo nelle Marche. Non andare a votare è un metodo di voto, quindi non far raggiungere il quorum è la possibilità che noi consigliamo di fare. E abrogandolo succede anche poco dal punto di vista pratico perché queste concessioni comunque sono state già prorogate di almeno dieci anni. Ecco, vogliamo rinunciare al gas metano? Questo dovrebbe dire il referendum. Sì o no? Io dico di no e io dico quindi di non andare a votare. Il referendum sarà valido solo se parteciperà il 50% più uno degli aventi diritto al voto.